Che vuoi? Sospeso Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso Ecco perché VinZuiden Sospeso l'appuntamento con Pomeriggio 5 su Canale 5, ecco il motivo ufficiale. Perché Cancelletto Pomeriggio 5 non sta andando in onda su Canale 5, video virgola e questa la domanda che si sono posti gli spettatori della trasmissione di Cancelletto Barbara D'Urso che oggi dalle 17 hanno acceso il televisore per vedere il nuovo appuntamento con il fortunato talk show condotto dalla D'Urso che come di consueto va in onda dopo l'appuntamento con la soppopera Il Segreto. Ecco perché non va in onda Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. E invece da oggi gli spettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere che al posto del talk show Pomeriggio 5 con la D'Urso Viera in onda un film natalizio che da questa settimana in poi occuperà la fascia oraria del pomeriggio al posto proprio della trasmissione di grandissimo successo di Barbara D'Urso, la quale risulta sospesa dal palinsesto per tre settimane. Il motivo di tale stop di Pomeriggio 5? Anche quest'anno a Mediaset conduttori e addetti ai lavori si godranno le ferie in maniera prolungata, visto che le trasmissioni del date-time verranno interrotte per tutto il periodo delle feste di Natale e torneranno in onda direttamente da gennaio 2018 in poi. Una scelta che tuttavia non rende felici tantissimi spettatori dei programmi di Barbara D'Urso i quali sono rimasti orfani sia di Pomeriggio 5 che di Domenica Live e che da oggi o potranno guardarsi i film natalizi proposti dalla rete oppure potranno sbarcare su Rai 1 dove prosegue l'appuntamento con la vita in diretta che non sarà trasmessa solo nelle giornate di Natale e Capodanno 2018. Pomeriggio 5 e Domenica Live sospesi dal palinsesto, ecco quando li rivedremo in onda. L'annuncio ufficiale era stato fatto già dalla stessa Barbara D'Urso che lo scorso venerdì durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 di questo 2017 aveva ringraziato il pubblico per il grande successo di questa prima parte della stagione che ha sempre avuto la meglio sul programma competitor di Rai 1. La D'Urso oltre a fare i suoi auguri di Buon Natale agli spettatori di Canale 5 che la seguono con grande passione e interesse ogni giorno, ha anche ricordato l'appuntamento con Pomeriggio 5 a partire dal prossimo 8 gennaio 2018. La trasmissione della D'Urso, infatti, tornerà in diretta con l'inizio del nuovo anno sempre nella stessa fascia oraria che va dalle 17.15 alle 18.45 circa e andrà avanti fino ai primi di giugno quando poi comincerà la sosta estiva con la quale la conduttrice di congederà dal suo pubblico fino a settembre. Ciao!